What is the winner? Happy to you! Io ho studiato a Firenze il corso di laurea in Operatori per la Pace, poi cambiato in Operazione di Pace. Bene, questo corso di laurea, che a me sinceramente ha dato tantissimo, c'è da quattro anni, è stato tagliato l'anno scorso e quindi è stato accorpato a un altro corso di laurea e ora si chiama Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale e Gestione dei Conflitti. Quindi il corso di laurea è stato tagliato, la parola pace è stata tagliata e questa è una cosa molto grave perché veramente se c'era un corso di laurea, ce ne sono due in tutta Italia, anzi ce ne erano due in tutta Italia con la parola pace e che trattassero questo argomento, ora non esiste più e questo veramente è una grossa perdita.